Ciao, sono Massimiliano Verdino, docente di teoria della percezione e storia e cultura della comunicazione. Sono un fotografo e anche un antropologo. I miei insegnamenti partono da una prospettiva antropologica per indagare le conseguenze socioculturali delle esperienze di percezione e di comunicazione. Le tecnologie moderne sono molto importanti per le professioni legate al design, ma altrettanto importanti sono la concettualizzazione per mettere in pratica i contenuti teorici. Gli scorsi anni di insegnamento all'esia di Pescara sono stati diversi e significativi i lavori elaborati e realizzati dai ragazzi, ma considerando la situazione contingente mi sembrava pertinente mostrare un lavoro che è stato realizzato dai ragazzi del secondo anno, un lavoro di comunicazione visiva rivolto al tema dell'ambiente, della sostenibilità, realizzato nella città di Pescara, nella quale sono state messe a punto tutte le competenze che i ragazzi hanno acquisito durante i primi due anni di scuola, sia di carattere teorico e di carattere pratico. A questo punto vi saluto e speriamo che siano a rivederci nell'istituzione della città di Alisia di Pescara, nella nuova struttura, che è una struttura molto luminosa, molto bella, in pieno centro, dove speriamo appunto di rincontrarci nel prossimo anno accademico. Ciao ciao!